Questo video è stato possibile grazie a EA Creator Network Bella a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo video Primo giorno ufficiale di FIFA 23 Ultimate Team Ultimate Edition Ora ufficialmente il gioco è fuori, tutti quanti potete installarlo e giocarci La standard uscirà fra 3 giorni, quindi il 30 E sono già iniziati i primi problemucci Primo, nel momento in cui sto registrando, i server di EA sono offline totalmente su tutti i giochi EA Non sono offline per colpa di FIFA, probabilmente incide Ma generalmente tutti i server di tutti i giochi EA al momento non funzionano Quindi non c'è modo di accedere alle sezioni online del gioco e dobbiamo aspettare che risolvano Quindi non spaventatevi se al momento non avete modo di entrare In genere poi pian pianino in giornata si risolve Seconda cosa, molti di voi non hanno ricevuto i 4600 FIA Points Ma tanti hanno detto che avviano una semplice partitina Sono riusciti poi ad ottenere i crediti Di conseguenza vi consiglio, se anche a voi avete l'Ultimate Edition E non ve li è dati immediatamente i crediti Di avviare giusto una partita Così provate, se tornano i server E giocando vedete insomma se vi ridà effettivamente i FIA Points Che avreste dovuto ottenere ieri Altrimenti contattate EA Help Ma ovviamente dovete essere proprietari dell'account dell'Ultimate Edition Di cui richiedete i benefici Tralasciando ciò sono sicurissimo Risolveranno velocemente come hanno già risolto diversi price cap abbastanza rapidamente Oggi siamo qua con un altro tutorial di inizio gioco Mi raccomando iscrivetevi, attivate i notifiche se ancora non l'avete fatto Perché ne usciranno praticamente uno al giorno Con un sacco di guide spiegandovi ogni singola cosa Lasciate un like se vi interessava questa guida E se vi è piaciuta E scrivetemi nei commenti anche se avete capito insomma come funziona Se avete dei suggerimenti su cosa vorreste vedere in un altro momento Non dimenticatevi poi di passare dalla piattaforma viola cercando Insta Dove sto facendo streaming ogni giorno Di passare da TikTok dove usciranno tantissimi mini tutorial e mini review Anche diverse da quelle che vedete qua su YouTube cercando Nicola Mirra E non dimenticatevi di passare anche da Instagram sempre cercando Nicola Mirra Perché anche lì escono tantissimi contenuti diversi da quelli che vedete qua Quindi oggi siamo qua con l'ennesimo tutorial di FIFA 23 Oggi parleremo di come riconoscere se si tratta di un walkout Di una lavagna, di un giocatore raro O di un giocatore comune o di una versione speciale Così come ieri invece abbiamo parlato di come iniziare FIFA 23 E fare i crediti in maniera molto completa parlando di tutto quanto Ma partiamo da questa prima clip presa da un pack opening Che abbiamo fatto assieme io, Home e poi anche Los Amigos Che tra l'altro vedrete sul suo secondo canale domani penso alle 14 E quindi niente insomma vediamola Ma manco le luci! Dammene uno! Ok, ve la rallento Qui potete vedere innanzitutto due cose Che la linea diagonale e la linea LED sotto le scale si muove verso sinistra Ruotando la visuale verso sinistra E che le luci tipo Batman non si illuminano ai lati del palco Se riconoscete ciò avete già la garanzia Che quello che uscirà da questo pacchetto Non potrà essere né board, quindi lavagna Né walkout Ma sarà solamente un giocatore ipoteticamente raro o comune Poi vabbè per distinguere raro o comune Penso sia abbastanza rilevante Ma lo capite dalla colorazione e la tonalità Ma non mi ci sono soffermato veramente molto Perché le informazioni insomma principali Le abbiamo abbastanza velocemente Quello che ci interessa sapere se è un board Se è un walkout eccetera Però mi interessava soffermarmici un attimo Per incominciare a darvi un primo input Quindi, riassumendo Se vediamo che la linea va verso sinistra E le luci non si illuminano Sappiamo che è un giocatore non walkout e non board Ma invece come capiamo Se si tratta di un giocatore board Quindi lavagna Ma non walkout Clip Let's go Forza Come on Dimmi andare a destra Aspetta, aspetta, aspetta Inghilterra, CC Di nuovo Anderson Anderson due volte in tre pacchetti Inizia di meme Let's go Ok, ve la rallento anche qui Se guardate bene potete notare che la linea è andata sempre a sinistra Quindi la linea si è mossa a sinistra Con la visuale che è andata in quella direzione Ma si sono accese le luci di Batman Le luci a lato del palcoscenico Ciò significa che sicuramente è un giocatore lavagna Un giocatore board Che di solito era sempre sugli 83, 84, 85 O gli ife scarsi O comunque le promo scarse Ma in sti giorni a noi sono usciti lavagna Anche con giocatori come Alexander Arnold Luci, attenzione, inglese Arriva, guarda, immagini Alexander Arnold D'87 ma non è walk out No, allora Come cazzo funziona il walk out? Su che base un walk out non lo è? C'è andata a sinistra L'86 di walk out Sì, sì, ma non è walk out Perché vedi che non c'è il giocatore che cammina Ma questo è un bug secondo me Che penso sia buggato Perché suppongo debba essere un walk out Se non 87 Ma se non dovesse esserlo Avete comunque in generale la speranza Anche quando avete una lavagna e un board Di trovare qualcosa di valido Perché ci sono usciti i versi 86, 87 Di solito la lavagna esce con i giocatori tra 83 e 85 E non con un consistente valore economico In questo caso pare ci sia la possibilità Quindi tenete la mente Qui vedete insomma la differenza Stessa transizione Ma qui si sono illuminate le luci Quindi linea sempre verso sinistra Ma le luci si sono illuminate Denotando che è raro e anche board Ma come capire a questo punto Invece se si tratta di un walk out Quindi un giocatore che fa un walk out Che cammina, esce, camminando, esultando Clip Attenzione! Walk out! Navas! Ma porca miseria! 88 Io mi sono spaventato Secondo me se la mia faccia si vede Fa sempre strano vedere questi walk out Ok, rallentiamo anche qua È molto semplice Avete questa informazione quasi immediatamente Quindi subito potete distinguere se sarà un pacchetto da walk out O un pacchetto da non Appena la linea led diagonale Centrale sotto le scale Si sposta dal barso Verso destra Allora abbiamo il riferimento Ufficiale Che sarà un walk out Al 100% Walk out vuol dire Semplicemente in genere Un giocatore da 86 in su Che fa questa uscita camminando Quindi un giocatore che mediamente Ha un buon valore economico Ovviamente succederanno anche le luci di Batman E ci saranno dei fuochi d'artipicio Quindi se vedete la differenza Potete notare che in un caso Per i board La linea va a sinistra Illuminando le luci Mentre in questo caso La linea va a destra Illuminando sempre le luci E in questo caso Sappiamo ufficialmente Che si tratta di un walk out Ma come capiamo invece Se è una versione speciale Oh if Con le luci Eh ancora lui No Questa volta Oh Traore è ottimo Traore è ottimo 65 Eh Manchester City Ti piacerebbe Ti sono fermato un attimo Stunzare ragazzi Attenzione Bello sto 3 ore 88 di velocità Oh sto 3 ore non è male Potrebbe avere un bel valore Andiamo a vedere Quanto costi? Non costa così tanto Ma Vabbè Quindi ci capo Arriva a 20 Ma questo sale sicuro Dopo che vanno via I team of the week Esatto Perché non c'è ancora Il 3 ore in base C'è solo questo Esatto Quindi Metti l'iniziatrasferimento E aspetta Qui semplicemente Come avete potuto notare La colorazione Tutto varia Perché abbiamo Dalle lavagne Alla pedana Alla parte superiore Tutto colorato Del colore della promo Dopodiché Per capire se è un if Giocatore della Coppa Libertadores Un icon o altro Ovviamente dovrete ricordarvi i colori E per capire se è un'ottima Versione speciale Dovrete sommarlo Ovviamente a quello Che abbiamo visto finora Quindi per esempio Se sappiamo che va verso destra E dice la colorazione degli if Sarà un walk out if Quindi ovviamente dovete considerare Queste cose mixate Tra di loro Spero sia tutto chiaro Spero non ne sia uscito Un video troppo lungo Ma ho preferito Cercare di essere Completamente chiaro E dovevo portare a casa La DV per fare soldi Bene Mi raccomando Iscrivetevi al canale Mettete like Fatemi sapere nei commenti Se avete dubbi E noi ci vediamo Nel prossimo video Bella a tutti